buongiorno sono andrea piras questo intervento è patrocinato dalla scuola dello sport dal coni sardegna dall'associazione italiana avvocati dello sport mi presento brevemente sono un consulente aziendale in ambito marketing e sviluppo e mi occupo di consulenza in ambito sanitario e sportivo oltre che essere imprenditore e quindi capire molto bene le cose di cui parleremo oggi oggi parleremo di strumenti per il marketing ovviamente sportivo e cercheremo di fare in modo che questi strumenti siano facili all'uso e siano soprattutto una guida per fare in modo che tutti voi possiate approcciare al marketing con cognizione di causa ed evitare una serie di problemi legati al non conoscere appunto questi strumenti prima di parlare però di marketing ebbene definire lo scenario all'interno del quale parleremo appunto di marketing e quindi parlare dello sport sport che sicuramente voi conoscerete meglio di me o almeno tanto quanto me ma dobbiamo sicuramente prendere in considerazione il fatto che lo sport soprattutto negli ultimi decenni è passato da da considerare o da essere considerato una mera competizione tra atleti nei vari ambiti ad una vera e propria parte della nostra vita lo sport per noi è vita qua vediamo alcune delle parole chiave che stanno si stanno sostanzialmente a descrivere quello che potrebbe essere lo sport e come vedete lo sport è davvero tutto quello che possa venirci in mente nella maggior parte dei casi di positivo ecco consideriamo solo gli aspetti positivi lo sport è sviluppo lo sport è integrazione e civiltà educazione rispetto e tolleranza e collaborazione e ovviamente anche disciplina lo sport però è sempre di più anche un business è anche un settore industriale è anche definiamolo in maniera ampia un'azienda questo perché lo sport oggi oggi più che mai deve rispondere ad una serie di variabili ad una serie di dinamiche che lo inseriscono a tutto diritto all'interno dei comparti produttivi della nostra nazione di tutte le nazioni lo sport come dicevo prima è vita e lo si vive facendolo e quindi parliamo degli atleti professionisti e non quindi anche gli amatori organizzandolo e gestendolo quindi le varie società le associazioni chi più ne ha più ne metta sovraintendendolo e controllandolo quindi vari organismi istituzionali di vario di vario livello sostenendolo quindi i vari sponsor i donatori le aziende che pubblicizzano lo sport e godendolo il pubblico la definizione di sport è ampia ma una cosa che è sicura è che lo sport ormai facendo parte della nostra quotidianità ed essendo sempre più inserito all'interno delle varie dinamiche della nostra vita ci aiuta e ha come obiettivi fondamentali quelli di insegnare la vita sostanzialmente il rispetto verso se stessi ed il prossimo ha degli obiettivi di di salute sempre di più non a caso parliamo anche di sport e salute e quindi deve portare benessere fisico e psichico a chi lo pratica aiuta a socializzare uno dei suoi obiettivi fondamentali è proprio quello soprattutto nell'età nei ragazzi e nei giovani ma diciamo che a tutta l'età aiuta e contribuisce a socializzare crea sviluppo e migliora la vita migliora la vita di chi lo pratica e in molti casi anche di chi semplicemente ne gode quindi avendo questi obiettivi lo sport deve rispondere sostanzialmente ad esigenze educative esigenze salutiste esigenze socio socio culturali competitive ed economiche sono esigenze molto forti molto importanti molto pregnanti che quindi fanno in modo che lo sport non possa essere considerato in maniera semplicistica ma anzi debba essere considerato come qualcosa di estremamente estremamente importante e in grado di fare la differenza queste queste esigenze questi obiettivi quello di cui abbiamo appena parlato vanno sostanzialmente a definire oa creare quelle che sono le dimensioni all'interno delle quali lo sport si muove la dimensione educativa formativa la dimensione ludica il gioco quello che è sostanzialmente una delle degli elementi più belli dello sport e che troppo spesso ci dimentichiamo la dimensione economica che è sicuramente una di quelle che ha portato l'associazione avvocati dello sport inserire l'intervento relativo al marketing in questo in questa serie di seminari la dimensione sanitaria molto cara vi dico a me ma anche a tutti quelli che di sport si stanno occupando perché lo sport è parte la vita sana l'attività fisica che fa parte dello sport aiutano alla prevenzione la prevenzione aiuta al risparmio sia del cittadino che del del pubblico e quindi è molto importante anche questa dimensione mai da trascurare in nessuno tipo di attività sportiva e la dimensione sociale la dimensione sociale che mi piace definire anche ecologica ne parleremo anche dopo dove per ecologico non si intende solo rispettoso dell'ambiente lo sport in molte dei casi aiuta a rispettare l'ambiente pensiamo semplicemente all'andare in bicicletta o a fare una partita di calcio all'aria aperta ma ecologica anche intesa come rispetto del contesto lo sport i maggiori in molti casi è uno sport che nasce dal quartiere che nasce dalla strada che nasce da situazioni in cui la dimensione sociale e quelle ecologiche si intersecano e vanno a creare e dare un vero valore allo sport c'è poi la dimensione competitiva che è quella che in passato veniva in assoluto più presa in considerazione perché diciamo che lo sport nasce dalla e con la competizione fin dalle sue origini la dimensione ecologica appunto ne ho già parlato prima la dimensione tecnologica che è una cosa molto importante soprattutto oggigiorno perché lo sport è uno dei volani per una serie di innovazioni tecnologiche in termini di materiali in termini di software in termini di monitoraggio delle performance ed è molto ed è molto interessante questo questo elemento che molto spesso viene poco considerato è un altro elemento che soprattutto qui in sardegna dovremmo tenere molto in considerazione è legata alla dimensione turistica dello sport lo sport soprattutto in una regione come la nostra in cui per fortuna godiamo di bel tempo quasi tutto l'anno gli eventi sportivi potrebbero essere un ottimo volano per attrarre atleti pubblico giornalisti e tutti quelli che si muovono intorno al mondo dello sport già qualcosa è stato fatto e si sta muovendo per fortuna quindi abbiamo visto che lo sport risponde a delle esigenze importanti a delle sue dimensioni che sono sì ben definite ma anche che vanno ad intersecare una serie di realtà che coinvolgono poi tutta la società tutto il comparto economico industriale e così via e il mercato di fatto può essere definito un vero e proprio mercato all'interno del quale esige convivono scusate esigenze di vario genere esigenze individuali esigenze collettive e pubbliche esigenze sociali culturali ed economiche è un mercato quello dello sport a tutti gli effetti complesso e completo questo sostanzialmente è un po il panorama riassuntivo di quello che è il mercato dello sport un mercato che per essere tale è sostanzialmente costituito da offerta domanda e dalla concorrenza l'offerta sportiva ovviamente è creata su vari livelli da chi sostanzialmente programma e organizza lo sport lo gestisce lo promuove quindi stiamo parlando di delle associazioni ma anche a livello ancora più alto di una realtà come il coni per esempio e l'offerta è ovviamente costituita in larga parte dai prodotti e dai servizi parliamo nella maggior parte dei casi soprattutto in seno al coni di servizi quindi anche servizi che vengono erogati dalle varie associazioni che afferiscono al coni ma anche prodotti perché possiamo tranquillamente parlare di tutto il comparto dell'abbigliamento sportivo fa sempre parte dell'offerta sportiva poi abbiamo gli intermediari che di fatto si pongono in una via di mezzo tra tutte queste realtà che abbiamo visto e gli impianti sportivi quindi diciamo la parte immobiliare del mercato la domanda sostanzialmente invece rappresentata da chi ricerca il godimento dello spettacolo legato allo sport da chi invece vuole praticare lo sport e chi invece ha bisogno di poter erogare dei servizi attraverso le sponsorizzazioni anche questa è una domanda relativa allo sport per quanto riguarda invece la concorrenza che diciamo che si stacca un po' da offerta e domanda ma è sostanzialmente la cosa che bisogna tenere molto in considerazione soprattutto dal lato dell'offerta parliamo di concorrenza diretta e concorrenza indiretta che cosa sono la concorrenza diretta sono i nostri competitor diretti banalmente io ho una palestra che fa arti marziali concorrente diretto e concorrenza diretta la concorrenza diretta è rappresentata da un'altra palestra che fa arti marziali la concorrenza indiretta è rappresentata banalmente anche da un teatro quindi tutto ciò che porta gli utenti ad andare o a prendere delle decisioni differenti che lo allontanino dal mondo dello sport questo è molto importante da considerare per un semplice motivo lo sport e tutti quelli che si occupano di sport devono essere in grado di percepire questa differenza per poter fare sistema perché il primo passo che un utente deve fare è scegliere di fare sport e non magari di andare a teatro poi magari li può fare tutte e due non è necessario che entrino in competizioni le due dinamiche però prima di tutto si deve spingere lo sport e quindi ragionare su gli elementi positivi che lo sport ha in sé dopodiché si andrà nel dettaglio lo sport in questo periodo oggi più che mai si trova sostanzialmente a vivere delle dinamiche una situazione che lo porta sempre di più al doversi innovare al dover inserire al suo interno elementi di professionalizzazione e di strutturazione di strategie affinché possa produrre al meglio i due elementi più contingenti sono sicuramente la riforma dello sport di cui sicuramente gli avvocati parleranno molto meglio di me ma che da un certo punto di vista ha inserito elementi molto importanti quanto quali per esempio la maggiore attenzione alla alla allo sport inteso come professionale come professione allo sport inteso come importante volano dell'economia uno sport che oggi tra l'altro anche grazie a queste riforme potrà godere di un'importante semplificazione del sistema burocratico orientato sempre più verso la trasparenza e l'altro elemento che è molto importante è che io vedo come una grande opportunità del mondo sportivo forse non ci siamo ancora ma ci saremo a breve me lo auguro è il post pandemia con la ritrovata libertà la ritrovata libertà ci porterà ad avere davanti a noi sportivi e non solo sportivi anche chi lavora nel mondo dello sport ad avere un vero e proprio foglio bianco davanti all'interno del quale la domanda e l'offerta ma soprattutto in questo caso l'offerta perché sto parlando a voi deve essere in grado di rispondere alle esigenze nuove e mature e complesse di una domanda che avrà una grandissima voglia di sfogarsi di divertirsi di competere in maniera sana ecco gli strumenti che vorrei offrirvi con questo seminario servono proprio a darvi una sorta di cassetta degli attrezzi per essere in grado di dire le cose giuste alle persone giuste e anche cosa non da poco risparmiare un po di soldi nel momento in cui invece dovete andare ad investire su attività che magari non dovrete andare ad investire su attività che non produrranno niente sostanzialmente quello di cui parlerò in termini di marketing è un metodo è un metodo che aiuta soprattutto grazie ad una fase importante di studio di confronto e di conoscenza del mondo che abbiamo intorno aiuta a conoscere il mercato aiuta a conoscere le persone a cui parleremo e soprattutto aiuterà a dire come dicevo prima le cose giuste alle persone giuste per poterlo fare abbiamo necessariamente bisogno di definire degli obiettivi di fare un'analisi SWOT la spiegherò brevemente dopo individuare sostanzialmente i segmenti di mercato ai quali ci vogliamo rivolgere abbiamo visto che il mercato dello sport è un mercato bello complesso individuare all'interno di questi segmenti delle vere e proprie personas che non sono altro che degli archetipi quindi dei modelli che noi individuiamo per sapere esattamente cosa dire e a chi dirlo e dopodiché creare quella che è la nostra identità del brand e impostare una strategia integrata che tenga ovviamente a mente e sicuramente in considerazione tutti gli elementi di cui ho appena parlato gli obiettivi molti di voi sicuramente avranno sentito parlare di obiettivi smart se ne parla da ormai decenni forse anche qualcosina di più sul come si definisce un obiettivo perché un obiettivo non può essere o non deve essere voglio avere più iscritti voglio avere più pubblico voglio coinvolgere più anziani nelle lezioni della mattina no per essere un obiettivo vero deve essere appunto smart e quindi deve essere specifico misurabile raggiungibile rilevante e o realistico perché qua c'è una duplice interpretazione e soprattutto temporalmente definito specifico mi sembra abbastanza facile da da spiegare deve rispondere sostanzialmente alle cinque w classiche del giornalismo e quindi dobbiamo sapere esattamente quale deve essere il nostro obiettivo e quindi chi come quando perché deve essere misurabile quindi dobbiamo avere anche un'idea di quello che è stato il passato per poter definire degli obiettivi per il futuro deve essere sicuramente raggiungibile perché se ci mettiamo degli obiettivi irraggiungibili diventano già di per sé depotenzianti e quindi sicuramente difficili da raggiungere deve essere realistico e rilevante deve essere qualcosa che per noi deve essere importante deve andare a coinvolgere una serie di elementi anche emotivi che per noi sono importanti e deve essere temporalmente definito un obiettivo potrebbe essere ben formulato se se formulato in questo modo torniamo magari all'esempio della della palestra che vuole riempire i corsi della della mattina che magari sono più scarichi vorrei avere dieci persone in più iscritti ai turni della mattina da qui ad un mese da qui a due mesi è raggiungibile perché è raggiungibile il tempo è definito chi vorrei avere è chiaro quanti ne vorrei avere chiaro e così su questo posso lavorare perché potendo lavorare su questo posso anche dire ok raggiunti otto non raggiunti nove come perché posso ricalibrare l'obiettivo senza avere questi numeri sostanzialmente navigo al buio dopo aver definito gli obiettivi devo aver chiaro molto chiaro dentro di me ed esternamente qual è la situazione che ho davanti torniamo all'esempio della palestra io devo analizzare internamente quali punti di quali punti di forza o al mio interno per poter magari coinvolgere gli anziani nei turni della mattina perché individuato gli anziani come un obiettivo plausibile ma devo anche sapere quali sono le mie debolezze esempio uno dei miei punti di forza o un insegnante all'interno della mia palestra specializzata sulla ginnastica dolce perfetto perfetta per gli anziani le mie debolezze possono essere interne legati al fatto che una palestra molto fredda ok quindi io so già che il punto di forza lo posso utilizzare a mio vantaggio la mia debolezza la posso utilizzare per lavorarci e magari riscaldare la palestra se ovviamente non si fa questo tipo di analisi io la sto banalizzando ma è per fare degli esempi pratici se non si fa questo tipo di analisi è impossibile anche migliorarsi e poi bisogna analizzare sostanzialmente quello che c'è esternamente magari un'opportunità e quindi le opportunità e le minacce un'opportunità magari è che la mia palestra è all'interno di un quartiere in cui la popolazione dopo averla studiata ovviamente è una popolazione composta prevalentemente da pensionati o persone nel range di età che può interessarci la minaccia magari è legata al fatto che ci sono già due palestre che fanno lo stesso servizio e quindi sulla base di questa analisi io sono in grado di gestire organizzare e migliorare quella che è la mia la mia situazione io qua ho fatto un altro esempio che è quello del circolo di tennis che decide di investire sul padel che è una cosa molto molto contemporanea il padel pieno boom in questo periodo non seguirò questo esempio visto che vi ho fatto quello della palestra ma vi chiedo provate a immaginare voi essendo un circolo quali potrebbero essere i fattori interni quindi i punti di forza i punti di debolezza in grado di farvi decidere se puntare sul padel o meno quali possono essere le opportunità e quali le minacce presenti esternamente rispetto al vostro circolo può essere un esercizio che veramente richiede dieci minuti e inizia a farvi entrare sulla mentalità dell'analisi che è davvero molto importante quando si parla di marketing e di marketing strategico arrivato a questo punto abbiamo chiari quali sono i nostri obiettivi o almeno oggi abbiamo chiari come abbiamo chiaro come formularli sappiamo cosa abbiamo internamente che cosa abbiamo esternamente quindi sostanzialmente devo andare ad individuare il target l'individuazione del target è una cosa abbastanza complessa ma che sostanzialmente nasce da quello che è un un'intuizione in molti casi nasce da quella che è una nostra ipotesi che sostanzialmente è incentrata sull'individuazione del mercato la prima cosa che devo sapere con chi sto parlando sto parlando con aziende quindi è un mercato b2b sto parlando con dei consumatori business to consumer o sto parlando con gli uni e con gli altri che io ho definito human to human che in realtà ormai vediamo che quasi tutti i mercati sono così strutturati per poterlo per poter fare questo tipo di una volta che abbiamo chiaro quale di quale mercato stiamo stiamo parlando è necessario effettuare quella che viene definita la segmentazione del mercato per segmentare il mercato dobbiamo creare degli insiemi di consumatori o aziende nel caso del b2b che siano omogeneamente interni che siano sostanzialmente eterogenei rispetto all'esterno è importante fare questo perché riduce sicuramente il rischio aumenta la comprensione del mondo che ci che ci circonda e garantisce una maggiore efficienza a tutte le nostre iniziative i segmenti sostanzialmente come dicevo devono essere internamente omogenei per quello che si aspettano per quello che vogliono per quello che sono ed esternamente omogenei rispetto a tutti gli altri segmenti come possiamo individuare la segmentazione dio qua ho elencato la maggior parte dei criteri attraverso i quali effettuare questa segmentazione andrò andrò rapido perché poi sono abbastanza semplici geografici quindi per area geografica città regione nazione demografici socio economici culturali ma anche comportamentali psicologici professionali e sportivi non andrò nel dettaglio su ognuno di questi criteri perché diciamo che sono abbastanza esplicativi nella loro stessa definizione ma la cosa importante è che tutti questi segmenti le cui i cui criteri possono anche essere uniti gli uni con gli altri per ottenere dei segmenti sempre più precisi e sempre più aggredibili è una brutta parola ma nel marketing si utilizza dobbiamo fare in modo che questo segmento sia descrivibile quantificabile e soprattutto raggiungibile mettiamoci così come per gli obiettivi dei dei segmenti che siano davvero alla nostra portata e soprattutto devono essere coerenti e disponibili ad ascoltarci ovviamente se abbiamo fatto bene lo studio di tutte le parti precedenti abbiamo la quasi totale la certezza che siano coerenti con i nostri obiettivi e disponibili ad ascoltarci il consiglio del giorno un po forse sarà già emerso sostanzialmente il mondo il mondo dello sport il mercato in generale ormai è talmente tanto complesso e pull una not talmente tanti realtà che bombardano gli utenti consumatori ma anche le altre aziende che dobbiamo essere in grado di andare davvero come se fossimo dei cecchini e quindi mirati il più possibile per questo è necessario individuare all'interno del target le cosiddette personas come dicevo anche in fase introduttiva le personas come le individuiamo le individuiamo semplicemente prendendo in considerazione all'interno del nostro target di riferimento individuato all'interno del nostro segmento o nei nostri segmenti di mercato i bisogni e i problemi che sono delle persone quotidiane che possono essere anche i nostri in molti casi l'offerta nasce proprio da quello che una persona vorrebbe per sé bisogna ovviamente testarlo ma le personas vengono utilizzate molto nella progettazione strategica oltre che nel marketing sono fondamentali perché nel momento in cui le conosciamo sappiamo quando si alzano come vanno al lavoro cosa leggono cosa mangiano e quindi sappiamo come parlargli con quale tono di voce attraverso quali social con quali contenuti con che linguaggio sappiamo attraverso quale canale fare per esempio della pubblicità torniamo per esempio al caso degli anziani penso che sia inutile parlare a degli anziani attraverso facebook o instagram ma magari si può arrivare agli anziani parlano attraverso facebook e instagram ma parlando con i nipoti o con i figli che quindi diventano sostanzialmente dei nostri evangelisti una volta che sappiamo qual è il nostro target di mercato legato agli obiettivi sappiamo come siamo internamente ed esternamente conosciamo le nostre personas ora dobbiamo sostanzialmente capire chi siamo noi e come vogliamo comunicarci all'esterno per questo motivo è necessario andare a parlare e andare a costruire a costituire quelle che sono quella che è la brand identity brand identity che è costituita da vision e mission da value proposition non mi piace troppo parlare in inglese ma in questo caso l'inglese aiuta payoff dei punti di forza e come una volta che abbiamo tutto questo impostare una strategia integrata ed organica vision e mission ecco la vision è sostanzialmente la cosa che ci spinge che ci anima la nostra filosofia è orientata al futuro ed è quella che sostanzialmente devo motivare noi i nostri partner i nostri dipendenti i nostri collaboratori a fare quel passo in più diciamo che è davvero il la bussola la guida l'ispirazione e come ho già detto è orientata al futuro è audace e di fatto non 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 ha limiti deve essere sicuramente facilmente memorizzabile ecco soprattutto dei nostri collaboratori e dipendenti alla vision segue ovviamente la mission la mission che cos'è è sostanzialmente la vision tradotta infatti e è sul presente e quindi è sostanzialmente quella che fornisce una guida operativa per tradurre infatti concreti la vision la mission definisce a tutti gli effetti quella che è la strategia quelle che sono le azioni qua ci sono una serie di esempi di vision e di mission che ho trovato navigando comunque attraverso le mie letture o quella che magari può essere la conoscenza del settore torno un attimo a quella precedente scusate che è questa della stella azzurra di roma che è una società di basket ed è perfettamente esemplificativa di quello che vi dicevo prima la vision è formare uomini e non solo giocatori è una cosa che è davvero ha un ampio respiro è molto se vogliamo anche filosofica ma poi trova traduzione in quella che è la mission ho citato poi quelle della figc della juventus dell'athletic bilbao quindi squadre di calcio e anche quelle quelle del coni diciamo che il coni sostanzialmente ha una vision principe delle mission che poi vengono ridefinite da un certo punto di vista col passare degli anni e questa è una cosa meravigliosa perché ci dimostra il fatto che niente nel mercato e niente nel marketing è fisso ma sostanzialmente di fissa c'è la visione la filosofia e quindi il diritto allo sport per tutti la proposta di valore sostanzialmente è una volta che noi abbiamo chiaro il dove vorremmo andare il come arrivarci è ok ora come diciamo alle persone quello che noi sulla base di di vision e mission facciamo che cosa gli proponiamo e quindi che cosa e quale valore siamo in grado di fornire per i nostri clienti interlocutori per chiunque si rapporti con noi è una promessa che noi facciamo ai nostri clienti ai potenziali clienti e questo è molto importante se all'interno della proposta di valore andiamo a risolvere quello che è un problema o dare risposta ad un bisogno dei nostri dei nostri delle nostre personas deve essere ovviamente rilevante rilevante per chi ci ascolta deve essere quantificabile unica e semplice da capire e soprattutto semplice da spiegare la proposta di valore sostanzialmente quella che è creata in questo modo e questo è più una guida per voi e quindi vi invito a provare a creare la proposta di valore della vostra attività è sostanzialmente quello che è il nostro primo elemento pubblicitario è il nostro primo modo per uscire allo scoperto e declinandolo in vari modi in maniera più breve maniera più lunga attraverso diversi tipi di contenuti e contenitori è quella che ci farà fare la differenza perché nella percezione delle persone noi li faremo capire che li abbiamo ascoltati che siamo in grado di dare effettive risposte e generare e garantire un vero valore per le loro esigenze dove siamo adesso abbiamo visto gli obiettivi abbiamo visto l'analisi SWOT abbiamo visto come segmentare un mercato individuare le persone come definire ovviamente alcuni cenni di brand identity quindi vision mission e proposta di valore e ora sostanzialmente siamo pronti a comunicare verso l'esterno quindi capite bene che prima di andare da un'agenzia è bene che voi internamente o anche guidati da un consulente facciate questa analisi perché in questo modo sarete in grado di creare e di costruire insieme a un'agenzia insieme ad altri consulenti insomma a chi volete una strategia che abbia delle basi solide e non sia costruita sulla sabbia o semplicemente sull'intuizione del momento del momento scusate tre pilastri per una buona strategia sono pensare integrato aver chiari gli obiettivi e misurare sempre misurare ogni cosa che facciamo pensare integrato vuol dire questo e quindi avere un giusto mix di online ed offline capire quali canali utilizzare e sostanzialmente capire anche quali strumenti e quali professionalità utilizzare per raggiungere i nostri obiettivi online parliamo di sito parliamo di tutto quello che è il marketing online per cui servirebbe sicuramente un altro seminario l'utilizzo dei social in cui molti si affacciano e molti lo è molto pochi lo fanno in maniera realmente strutturata e professionale oppure la classica comunicazione offline che da molti viene tanto vituperata ma che in molti casi invece può essere un caso di buona comunicazione di buon successo parliamo di volantini parliamo delle classiche pr insomma pensare integrato vuol dire aver chiari gli obiettivi e sulla base di quello non scartare niente a priori ma scartare tutto quello che non ci renda in grado di raggiungere gli obiettivi che abbiamo che abbiamo definito tutto questo poi una volta che costituirà il substrato all'interno del quale la nostra realtà andrà a muoversi potrà trovare traduzione in altri elementi strettamente correlati al marketing che sono il mondo delle sponsorizzazioni i vari progetti bandi accesso al credito esempio stupido se noi andiamo in banca per chiedere un finanziamento la parte qualitativa del progetto che ne andiamo a scrivere per la banca conterrà tutti gli elementi di cui ho parlato oggi e quindi averli chiari e averli chiari all'inizio aiuterà ad avere chiara tutta la strategia da adottare oggi domani modificandola sicuramente ma portandola avanti per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi grazie mille spero di essere riuscito almeno a mettervi la pulce nell'orecchio sull'importanza dell'approccio strategico al marketing vi saluto sperando ci possono essere altre occasioni grazie